Ho capito perfettamente cosa si intende per star power. È una luce magica che si accende in questi artisti incredibili e si accende solo davanti alla macchina da presa. Julia Roberts fuori dalla macchina da presa è veramente una donna estremamente normale. Normale sotto ogni punto di vista, estetico, di atteggiamento. Davanti alla macchina da presa si illumina. I suoi occhi cambiano intensità, si accende una luce e tutto in funzione della macchina da presa lei diventa un'altra cosa. E vedi questa trasformazione a ogni Chuck.